Io mi voglio rivolgere ai nostri concittadini che si sono legittimamente e comprensibilmente vaccinati. Noi, come si sta vedendo anche dalle tante interviste che fanno TV meritoriamente e coraggiosamente stanno trasmettendo, siamo persone normali, non siamo degli estremisti, ci sono medici, ci sono avvocati, ci sono imprenditori, persone comuni che per rifiutare questa imposizione vanno incontro a discriminazione e a difficoltà molto serie sin al punto di rischiare di rimanere senza stipendi. Allora sarà il caso di spiegare il perché, perché magari noi lo diamo per scontato, molte persone che hanno fatto scelte diverse fanno fatica a comprenderci. Secondo me si possono riassumere in due motivazioni, che magari in questo modo possono aiutarci, fare in modo che le persone che si sono vaccinate ci aiutino a far sì che lo Stato comprenda e renda libera anche chi fa una scelta diversa come la nostra. Le motivazioni sono due, dicevo. La prima è che in questo modo con l'obbligo vaccinale imposto attraverso il Green Pass si crea un precedente molto pericoloso. Questo precedente è di dire che lo Stato, che i nostri corpi non appartengono a noi ma appartengono allo Stato e su questi corpi lo Stato può fare quello che vuole. Questo è un precedente molto pericoloso anche perché voglio ricordare che questo Stato è lo stesso Stato che prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19 era un governo di uno Stato del quale molti italiani non si fidavano. Era uno Stato formato da politici spesso incompetenti, spesso inadeguati, a volte anche corrotti. È lo stesso Stato che solo nella regione Marchi ha chiuso in questi ultimi anni 11 ospedali, creando in questo modo, contribuendo in questo modo a creare l'emergenza sanitaria. È quello Stato che ci tartassa, che ci uccide con la burocrazia. Ecco, voi vi fidate di questo Stato a concedere i vostri corpi allo Stato? Questa è la prima motivazione che mi porta e credo porta molti altri a rifiutare questa impostazione. La seconda motivazione è che questi farmaci che ci debbono essere iniettati non sono completamente sicuri. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Basta andare sul sito dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, lì si possono scaricare i documenti ufficiali che illustrano per esempio le caratteristiche dei vaccini che sono in questo momento più diffusi in Italia, cioè Pfizer e Moderna. Questi farmaci sono stati immessi in commercio in fretta e furia con un'autorizzazione che è provvisoria. Se si leggeranno questi documenti si potrà vedere che ad esempio l'autorizzazione definitiva per Pfizer potrà avvenire solo a dicembre 2023, per Moderna solo a dicembre 2022. Quindi fino a quel momento si naviga nell'ignoto. Non solo, in questi studi ufficiali dell'AIFA si dice esplicitamente che Pfizer non ha condotto su queste sostanze né studi sul potenziale cancerogeno di queste sostanze, né studi sulla cosiddetta genotossicità. Cos'è la genotossicità? È la capacità di una sostanza di danneggiare le cellule del nostro DNA. Quindi né sul fatto che può provocare il cancro, né sul fatto che può danneggiare il nostro DNA sono stati condotti studi da Pfizer. Questo è ufficiale. Moderna ha condotto studi sulla genotossicità ma non sul potenziale cancerogeno. Quindi non sono farmaci sicuri. Cosa voglio dire con questo? È normale che non siano sicuri perché sono stati immessi in 448. Normalmente i farmaci hanno iter sperimentativi di anni prima di essere diffusi fra la popolazione. In questo caso con l'alibi dell'emergenza sono stati immediatamente messi in commercio. Ma se lo Stato non può garantire al 100% la sicurezza di un farmaco non lo può imporre. Se non ci dà la sicurezza al 100% questo deve essere lasciato alla libera scelta del cittadino. Tutti i farmaci possono provocare reazioni avverse, compresa l'aspirina, ma nessuno ci obbliga ad assumere l'aspirina. È una nostra scelta. Questo è il discrimine fondamentale. Quindi ormai io credo che non ci sia nessuno di noi che non conosca qualcuno che ha avuto reazioni avverse, anche molto gravi, dal vaccino. Questa quindi è la seconda motivazione per la quale noi non vogliamo sottoporci a questo che ci viene descritto come un rito salvifico e sicuro, ma che gli stessi documenti delle case farmaceutiche ci dicono che non lo è. Tanto è vero che chi si sottopone alla vaccinazione si sottopone ad un procedimento assurdo, mostruoso, che è quello di da un lato essere obbligato altrimenti a perdere il lavoro, dall'altro prima di farsi inoculare il siero devi firmare un consenso informato che sgrava chi gli fa l'iniezione e la casa farmaceutica da possibili azioni risarcitorie se questo soggetto avrà reazioni avverse. Quindi è un assurdo, tu mi obblighi, ma allo stesso tempo mi obblighi anche a scrivere che se mi capita qualcosa tu non mi esarcirai perché io sono informato che si tratta di un procedimento sanitario pericoloso. Questo è un'assurdità. E concludo dicendo questo, sempre rivolgendomi ai nostri concittadini vaccinati. Oggi condividete, magari alcuni di voi, l'imposizione del Green Pass perché pensate che il vaccino sia utile, ma ricordatevi che il Green Pass è uno strumento che sostanzialmente subordina la nostra libertà ad avere un codice a barre e che questo codice a barre può essere applicato oggi per il vaccino ma domani ad esempio le penalizzazioni possono essere per chi ritarda a pagare le tasse o per chi ritarda a pagare una bolletta o per chi non obbedisce diciamo ai dicta dello Stato. In Cina è un sistema che esiste già, si chiama dei crediti sociali e la libertà dei cittadini viene dosata a seconda della loro rispondenza agli obblighi che lo Stato impone. Quindi dimenticatevi per un attimo il vaccino e pensate se può piacervi uno Stato di questo genere.